Siete contro la sola, porca amico. Non si vede la parte, non si vede niente, non si vede in qua. Non si vede di qua ma niente, è qua. Non si vede niente, non si vede niente, è perché sta solo. Allora, non si vede. Filma queste cose. Ma vai, stai solo. Aprova il barco. Ma come vai solo? Stai più che lì nel bambino. Non si vede, non si vede, non si vede. Oh, l'indiano! Non si vede, non si vede, non si vede, non si vede. Non si vede, non si vede, non si vede. Spara, non vuoi sparare. E perché mi spara se guida? Eh? Come spara se stai? Ma non sai guidare. Allora, non si vede. No, non si vede. Ma che cazzo c'è a fare, Paola, Max? Ma non... Non mi ripiglia, no? Allora, Max, non lo faccio più niente. No, bufalo, bufalo. Stai a cuore. No, sono troppo lontani, mannaggia, non si vede. ehi, non ci riesco ehi, non ci riesco guarda, guarda, guarda ci vedono? ehi, non sta ferma sta macchina ehi, non ci vedo ehi, non ci vedo ehi, non ci vedo ecco tipo u classroom ma c'è schiena ma c'è schiena oh ma... oh io schiena grazie dai dai ah oh ah 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 ma che tutto pronto adesso ragazzi no ci ho pensato su eh avanti tu non ci vuoi andare ci volevo andare ma dai vediamo forza che inizia faccio l'ultimo saluto eh l'ultimo saluto ciao 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 così eccezionale e adesso ancora è ancora vivo Giulio buonissimo così oh ma ti amico la macchina che ce l'ha? è Giulio stiamo organizzando ogni tanto secondo me un attimo così il movimento cambia tutto ancora attenzione come va ragazzi siete pronti? attenzione un attimino di relax così e ora andiamo veloce dai non lo vedo l'aumento ok ragazzi al massimo molto bene eccezionale così il passaggio ragazzi benissimo ok 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 occhio alla finale al massimo livello ok è molto più le ragazze con le quali ci siamo lì se volete in giro così forza signorite da questa parte che ricomincia ok è giù no io ci ho diventato il suo io ci ho diventato il suo è tornato Giulio chi è? ma ci si sente? come sei bianco Giulio? io sì non sei buono noi stiamo voglia dire che stiamo a casa stiamo a bianco stiamo a bianco ma sono nemmeno solo parlo fantastico per essere che ho fatto la casa stiamo a fatti facciola 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 girata vale 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 cioè su e io come lo no è che cosa è volta guarda la fretta la fretta mi chiedo qui eh? eh vedo qui si Sì, volevo lasciare la borsa a lui. Ma c'è proprio il suo di dietro, porca. Borsare? Come fare? Vado un attimo di lago nato. Cosa? A fare che? Ciao! Ma che sta a bocamello? C'è sedine? Ma è più tranquillo. No, no, sì, andiamo. Ma è più tranquillo. Ma c'è solo pochino. No, non vedi che non è. No! 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 Sì Grazie a tutti 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 Ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti